... Hanno chiamato adesso dalla spezia, arrambio incinta! Ceeeeee, è solo tardi! Ma avrò usato un guindolo bucato? Mmm, può essere che arriva ultimo i caghi neri! Opla! Ma fammi capire, incinta dal culo come si fa? Maresciallo Argiola, si il colonnello Umichi vuol sapere come si rimane incinta dal culo! Eh, dal culo! Hehehe, dal culo! Forza ragazzi questa è una cosa nuova Tutti i nudi vi devo mettere in città dal culo Adesso mi diverto bene bene Dai muovetevi non voglio sentire storie Muovetevi fretta e tu sei il primo Come va? Asco ma non è che tu sai chi è il padre Perché Io le ho solo dato un bacio E lui che mi stava provocando Non ti sento bene? Ripeti Mi faccio tua moglie Ok Aspetta un attimino che ci parlo io Orciola smacciare un bagno in questo elicottero Perché mi sto pisciando Dove stai andando? Ehi Ma l'ha presa da cortesi questa pistola? Mi sto pisciando No La fai quando accendi Senti così E io ti piscio nei piedi